Siamo Sabucina! Stiamo vedendo la corsa di Capodarcio che in questo momento si è chiantato qualcuno non si... e non stanno correndo e noi alla manchiamo il patacone! Stupendo! Ecco Henry che prende un patacone! Mamma è stupendo! Non ti fermare, fa nel frenato! Stupendo! No, non me lo fa più! Il pietro è una pedra! No, si! Questo è un represe come pietro! No, aiutare gli piedi che cagli è più caldo! Ehi ragazzi! Mi accetta se dica un navaforza, un patacone gigante! Mamma mille pezzi! Vai vai! Aspetta che mi piego uno io! Stupendo! Guardate da dove scivano i pataconi! Fraschi fraschi! MINGA! Ho avuto tanti gattini! Ma vabbè! Pesso... Ma questo finito è giassuta! Ma che cazzo è? MINGA! 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 Ah questo ce la fai! Questo qua! Questo qua! Ah si! Lo abbiamo visto! Questo è diventato forte! Allena di grazia! Di qua! Di qua! Che troppo! Un tiro piano però! Un mostro! Un mostro! Super bello! Mamma ci ritira... Un costo tanto ci ritassi! Uno rotondo! Basta! Ciao ciao! Ci vediamo! Ma non lo so! Tra una parola di anni! Ciao!